Ciao belli e ben ritrovati sul mio canale, siamo di nuovo su Black Ops 3, facciamo la partita di gioco delle armi, mi raccomando ricordatevi alla fine del video di lasciarmi un bel like se dovesse piacervi, iscrivervi al mio canale se dovesse interessarvi e quindi commentare. Io vi lascio al video e ci vediamo dopo la sigla, ciao! Eccoci qua ragazzi, si parte subito, un solo secondo di avvio e siamo già pronti, ottimo il primo andato, primo andato, vediamo un po' di fare qualcosa di concreto più dell'altra, quale partite si susseguono con vittorie e morti, vittorie e morti. E' un'altra delle armi dolenti per me questa qua, eh. Buono! Buono, buono, è morta! È morta! Nooo, mi sono ucciso per ammazzare quella lì, non ce l'ho fatta. E mi fa tornare indietro tra l'altro. Guarda te! Ma guarda un po' cosa combino io, cosa combino! Cosa combino! Siamo sempre lì, eh. Andiamo un po' lassù, va. Ma non è morto! Ma guarda te, ma quanti colpi ci vogliono per sta gente! Uuuuuh, mi stavo per togliere subito anche questo fucile qua, eh. Che sono le armi mie preferite proprio, eh. Dove sei? Sei quassù, sei? Oh! Maledizione, sto fucile! Devo farmi una sessione solo pompa! Solo ed esclusivamente pompa, così almeno magari un po' di pratica la faccio. Nooo, ma guardate, ha un centimetro! Una rosa di pallini da 20 centimetri, 30 centimetri, non gli ho fatto niente. Vergogna, vergogna. Vai! Almeno l'ho tirata giù quella lì. Come sei? Sei andato di qua? Sei andato di qua? Dimmi la verità. Ok, questo è andato giù così. Buon, dai, 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 che ci stiamo un po' rifacendo, eh. Bella lì, il faccio! Ciao! 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 Guarda! Sembrava un furetto quello lì, ragazzi. Saltava che pareva un furetto. Ora non salti più, eh. Scappa, 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 scappa! Scappa, 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 scappa! Bella lì! Seraf eliminata! Devo togliermi il suo fucile adesso. Eh, va bene, anche questo qua è complicato, eh. Anche questo qui è complicato. Eh, va bene, pazienza. Troppo vicino. Come faccio questo fucile adesso qua? Dove sei? Maledetto! Cercami, 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 non l'ho trovato. Peccato, eh. Potevo quasi farcela. Vediamo un po' cosa riuscire a combinare, eh. Con sto fucile malmenato qua. RPG, giù! Buah, la parola ho preso, dai! Ah, non me l'ha fatta uccidere! Eh, maledizione, l'ha preso lui con la granata. Con note mazziata quella lì, praticamente. Vediamo se riusciamo a scappare qua. Ragazzi, c'ho molta paura. Dai, su! Vedete, ragazzi, partita di merda questa, mi raccomando, eh. Non mettete un bel like. Quindi vi ringrazio per aver visto questo video. Vi ricordo che a questo punto qua vi lascio la playlist completa con gli appuntamenti di Black Ops 3. Qua sopra ci sono i miei social, se volete connetterevi con me in qualche modo. Quindi vi ricordo di lasciare un bel like alla fine di questo video, se vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, se ancora non l'avete fatto. Commentate, condividete, fate un po' quello che volete. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!